Un'esercitazione di protezione civile presso l'istituto scolastico Galileo Ferraris ha visto a Ragusa la partecipazione di circa 620 persone, tra studenti, docenti e dette ai lavori. La simulazione ha in pratica riguardato la gestione dell'emergenza a seguito di un evento sismico. Sono stati impiegati anche sei mezzi della protezione civile, due squadre dei vigili del fuoco, oltre pattuglie della polizia municipale e ai volontari del corpo. e associazioni attivate dal Dipartimento regionale di protezione civile. Lo scenario simulato è stato quello di far fronte ad un'immediata evacuazione dello stabile, di attivare tutte le procedure di coordinamento e soccorso e di assistere i feriti e le persone con disabilità. A fine esercitazione si è tenuto un briefing di tutti i soggetti coinvolti presso l'aula magna dello stesso istituto Ferraris, per verificare e analizzare le varie fasi dell'operazione di protezione civile.